Do work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job Per il play out dei giovanissimi delitte in campo al Cecconi Monterotondo e Atletico Fidene Gara importantissima per entrambe le formazioni, Fidene che deve assolutamente vincere per salvare la categoria da Monterotondo Anche dopo i supplementari può bastare un pareggio, Monterotondo che fa la gara nel primo tempo Prima emozione con il tiro da parte di Pacchiarotti, la pronta parata da parte di Atletico Fidene con Chiapperotti Ancora il Monterotondo al quinto, grandissima opportunità qui con il pallonetto da parte di Fabrizi Con il pallone respinto sulla linea di porta, sempre il Monterotondo a fare la partita dopo delle proteste Per un calcio rigore non dato, per un dubbio fallo di mano Qui ci prova dalla distanza il numero 8 della formazione di casa, Angelini Palla sopra la traversa, poi al 32esimo del primo tempo arriva il gol del vantaggio Azione di Latini sulla destra, lo scambio con Pacchiarotti Ancora Latini che entra nel rigore, mette al centro per lo stesso Pacchiarotti che di destro Non sbaglia da due passi per il gol del vantaggio Monterotondo quindi si porta sull'1-0 prima della chiusura del primo tempo Atletico Fidene prova a rendersi pericoloso con una conclusione da parte di Gherardini Nella finale del primo tempo, nulla di fatto però con l'immagine Andiamo alla ripresa, prima emozione al quinto Con Pacchiarotti che serve al centro per Angelini La respinta del portiere in calcio d'angolo Ancora Montrotondo pericoloso con la ripartenza Qui il tiro da parte di Fabrizi, il pallone alto sopra la traversa Tatico Fidene però reagisce e dalla decima del secondo tempo Trova il gol del pareggio Errore da parte di Domenicis in fase di disimpegno Ne approfitta Frasca che sulla ribattuta del portiere Mette in rete per il gol dell'1-1 Tutto da rifare quindi per il Montrotondo all'inizio ripresa Tatico Fidene continua a provarci qui con Tiro da parte di Ciccolò entrato nel corso della ripresa Poi ancora Tatico Fidene sempre con Frasca Sulla corsia di sinistra il tiro di sinistro E la risposta stavolta pronta da parte di Domenicis Al 34esimo del secondo tempo Quando si profilano i supplementari Arriva il gol dell'avvantaggio del Montrotondo Azione di Angelini sulla sinistra C'è un contatto in aria con il destro Mette in rete il numero 7 della formazione locale Caglia Per il gol del 2-1 tra le proteste degli ospiti A questo punto c'è un alterco tra il tecnico del Tatico Fidene E alcuni spettatori La partita viene interrotta per circa 10 minuti Sembra che si profili una ripetizione O addirittura una gara vinta a tavolino per il Montrotondo Dopo circa un quarto d'ora le due squadre Tornano in campo Con l'arbitro Corradini di Albano Naziale Che dice che si può ripartire nel finale All'ultimo minuto di recupero Arriva il gol del 3-1 del Montrotondo Con l'arbitro in confusione Che non ne vede un evidente fuorigioco Da parte del numero 13 Kenna Visto che non c'è più il portiere Non ci sono più i due uomini Dall'Atletico Fidene in difesa Arriva però la rete da parte del numero 13 del Montrotondo E questo è il gol del 3-1 La rete che vuol dire salvezza per il Montrotondo E retrocessione nei regionali per l'Atletico Fidene Grazie a tutti